Al via lo sportello del consumatore gestito dal Codacons Cilento all'interno della sede comunale del comune di Canalonga. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva disponibilità del sindaco Carmine Laurito e di numerosi cittadini del posto. Sarà uno sportello al servizio dei cittadini, ha spiegato il presidente Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara. L'apertura sarà concordata con il sindaco e comunicata alla popolazione appena saremo usciti dall'emergenza Covid-19. Gli orari e il giorno varieranno in considerazione del numero delle richieste dei cittadini. Lo sportello del consumatore e dell'utente ha lo scopo di fornire informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali e attinenti. La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Bisogna comprendere che in questo particolare momento storico di grave recessione economica molti cittadini sono disorientati e soli contro i continui abusi e disservizi che quotidianamente si registrano sul nostro territorio. L'obiettivo del Codacons in sinergia con l'amministrazione comunale è di aiutare i cittadini a risolvere i continui disservizi che vanno dai gestori telefonici agli operatori dell'energia che vedono molti cittadini, soprattutto anziani, soli e indifesi. Il Codacons ha come finalità una collaborazione con la pubblica amministrazione mirante alla soluzione di problematiche poste dagli utenti e che mirano al superamento del momento giudiziario fra associazioni di consumatori, utenti e pubblica amministrazione, sottolinea Lanzara, per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza. L'obiettivo quindi consiste nel fornire in maniera coordinata e capillare una serie di servizi di consulenza e divulgazione su temi e problematiche tipiche del consumerismo, informando i consumatori riguardo ai loro diritti attraverso momenti di approfondimento pubblico di diverse tematiche in materia di consumo e raccogliendo i suggerimenti e segnalazioni dei consumatori circa le esigenze e i problemi a loro causati da produttori e fornitori di beni e servizi. Inoltre offrire assistenza in caso di contenzioso, prestando particolare attenzione allo sviluppo di procedure di conciliazione e strumenti di risoluzione stragiudiziari.